In Cardona, segretario dell'Udc di Gela, cosa ha contestato l'amministrazione comunale che ha zerato la giunta e poi l'ha ricompattata prendendo due assessori che aveva mandato via e prendendo una new entry? Ma dici bene, ricompattata, io direi rimpastata perché comunque, ripeto, questo azzeramento ha il sapore di un rimpasto. Ecco i due confermati, Siciliano e Morello, nonché questa new entry che ancora non abbiamo capito tutte le forze politiche se esso sia un tecnico o un politico o forse magari un politico travestito da tecnico o viceversa, che si faccia chiarezza, ecco il sindaco faccia chiarezza. Già ieri sera si è visto in consiglio comunale assente quando c'era da votare una cosa molto importante per la città, qual è il bilancio di previsione. L'anno è già quasi alla fine e ancora siamo senza bilancio. Voglio dire che si faccia chiarezza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Il sindaco, ripeto, deve dare un programma alla città, altrimenti faccia un regalo, si dimetta e si vada al voto subito. Io l'ho detto nei giorni scorsi, un commissariamento sarebbe più proficuo rispetto ad un'amministrazione silente o comunque come una bella addormentata nel bosco che aspetta l'arrivo del principe. E allora secondo lei cosa avrebbe dovuto fare il sindaco invece? Ma quantomeno intanto chiamare tutte le forze politiche all'interno della città, che se siano o meno rappresentate in consiglio comunale perché oggi si parla del bene della città, tanto sventolato in campagna elettorale ma che ad oggi io non ho visto. Chiamare le forze politiche e rimettersi a loro. Ecco, non è un dramma chiedere l'aiuto di chi potrebbe governare, altrimenti, ripeto, si dimetta. Se non è più in grado di amministrare e governare questa città, che si dimetta. Non ci sono problemi. Ma cosa contestate proprio in una fattispecie al primo cittadino? Beh, ripeto, un'amministrazione immobile. Ecco, l'immobilismo di questa amministrazione. Ad oggi tante belle parole, tanti bei ospici, ma di concreto oggi non c'è niente. Ripeto, quello di ieri è un atto gravissimo, soprattutto perché notizia dell'altro ieri che il sindaco era in una cena con gli espulsi, i sindaci espulsi dal Movimento 5 Stelle, quando qua la città è in ginocchio. Cioè, noi non abbiamo un bilancio e il sindaco va in una cena con gli ex del Movimento 5 Stelle, un incontro, un istituzionale, voglio dire, questo è troppo per la città. Per voi il giudizio è insufficiente? Per noi sì, sì, per noi è abbastanza. Operazione antidroga la scorsa notte in tre province siciliane, Agrigento, Catania e Messina. Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari per detenzione di droga, quattro sono agli arresti domiciliari, quattro hanno il divieto di dimora, e una all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in esecuzione del provvedimento firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento e richiesto dal sostituto procuratore titolare del fascicolo d'inchiesta, Simona Faga. L'inchiesta, denominata Homemade, ha scoperto che la marijuana coltivata nelle campagne di Licata veniva rivenduta a Messina e a Catania. Nel corso delle indagini è stato accertato che la banda era riuscita a smerciare nella piazza Etnea circa 7 kg di marijuana in contrada Giacobbe a Licata e è stata trovata una serra estesa per circa 3.000 metri quadrati con 2.800 piante di marijuana. Il blitz è stato attuato da circa 50 carabinieri del comando provinciale di Agrigento, coadjuvati nelle attività da unità cinofile dell'arma. L'operazione è coinvolto Marco Cavaleri, 32 anni, Agostino Curella, di 35, Angelo Manganello, 42 anni, originario di Palma di Montechiaro ed il sotto ufficiale della Guardia Costiera, originario di Messina ma residente a Licata, Marco Ucciardello, di 34 anni. Il divieto di dimora è stato firmato dal GIP invece per altri 4 indagati, 2 italiani, un marocchino ed un egiziano, regolarmente residenti sempre a Licata. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato invece firmato per una licatese trentenne. La marijuana veniva, secondo la ricostruzione dei carabinieri e della procura, smerciata a Licata, ma grazie all'ottima qualità e alle conoscenze o amicizie venivano rifornite anche le piazze della Movida di Catania e di Messina dove la droga giungeva in macchina. Puscher catanesi o messinesi però non ne sono stati identificati durante l'inchiesta che è durata oltre un anno e mezzo. E' anni scemi, la polizia, assieme alla squadra mobile di Enna e del commissariato di Piazza Almerina, ha arrestato Francesco Emulo, 31 anni. Il giovane è stato sorpreso con quasi 55 grammi di marijuana. I poliziotti hanno seguito l'auto del ragazzo e l'hanno bloccato in contrada colla. Alla vista degli agenti, Emulo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato. La droga era nascosta sotto il sedile del conducente. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire due bilancini elettronici di precisione, perfettamente funzionanti, uno dei quali presentava ancora dei residui di marijuana. Data le circostanze, è apparso chiaro come Emulo si fosse regato in trasferta per spacciare la sostanza stupefacente che gli è stata trovata in macchina. Molto comodo percepire l'indennità di accompagnamento e contemporaneamente essere ricoverati in strutture sanitarie gratuite. L'indennità incassata non lo aspettava, è quanto accertato dal nucleo di pulizia tributaria di Caltanissetta, che nel corso di quest'anno ha svolto un'attenta ricognizione delle posizioni dei soggetti che risultavano beneficiari dell'indennità di accompagnamento e contestualmente erano ricoverati in lungo reggenza a titolo gratuito. In particolare l'attenzione degli investigatori si è concentrata su quei cittadini che, essendo titolari dell'indennità, si trovavano in degenza gratuita per periodi pari o superiori a 30 giorni. La legge provvede che l'indennità di accompagnamento deve essere sospesa per l'intero periodo di ricovero. I percettori, pertanto, sono obbligati a segnalare all'Inps la propria condizione di ospedalizzazione. In questo contesto i finanziari nisseni hanno appurato che sul territorio provinciale molteplici persone avevano omesso la comunicazione e pertanto percepito indebitamente l'indennità di accompagnamento per il periodo di dirigenza gratuita in struttura sanitaria. L'illeggi da condotta ha procurato anche danni alle casse dell'azienda sanitaria provinciale per il mancato versamento delle rette giornaliere di dirigenza, quando dovute, sia da parte dei pazienti che, in caso di compartecipazione, dei comuni di residenza degli stessi. Nel complesso le omissioni rilevate hanno generato uno cospicuo danno alla spesa pubblica nazionale e locale. L'attività ispettiva ha permesso di individuare, dopo complesse analisi documentali e incrocio di informazioni ricavate dall'azione di Intelligence, 223 persone che hanno frodato l'erario dal 2014 al 2016. Tutte sono state segnalate all'autorità giudiziaria e prefettizia per indebita percezione di erogazioni a danno dallo Stato e per il recupero dell'illecito guadagno conseguito a montante a 300.000 euro, oltre sanzioni pecuniarie per circa mezzo milione di euro. Il danno erariale è stato di quasi un milione di euro denunciato alla Corte dei Conti di Palermo. Una vita in gioco, l'amore, il calcio, la SLA, più che una presentazione editoriale all'evento di oggi alla scuola Ettore Romagnoli di Gela. Presente Chantal Borgonovo, moglie del calciatore Stefano, spentosi quattro anni dietro a causa della malattia. Il libro parla di una storia di amore, di gioia e di immenso dolore. Racconta gli anni meravigliosi di Stefano, delle partite vinte, dei figli, del successo, dei contratti stellari, ma soprattutto dei valori degli amici veri e dei progetti. Poi il dramma della malattia di Stefano, la SLA e l'inizio di un calvario. In questo libro Chantal racconta idealmente a Stefano come lei ha vissuto tutto questo, come l'ha guardato da fuori e da dentro, come ha visto la loro vita prendere una direzione che mai si sarebbero immaginati, la discesa all'inferno e poi la risalita. È importante che le nuove generazioni capiscano quanto lo sport, che è un mondo comunque sano, portatore di molti valori, possa poi servire, come nel caso di Stefano, ad affrontare le difficoltà che poi purtroppo la vita pone a chiunque di noi. Stefano è stato un grande sportivo, un campione. E questo non è un caso, nel senso che quello che poi ha fatto durante gli anni della malattia e quindi anche il mostrarsi e il voler aiutare mostrandosi gli altri, non è stato casuale. È arrivato tutto dalla sua educazione, dalla sua educazione di famiglia, chiaramente in famiglia, ma anche dalla sua educazione sportiva. Il dirigente scolastico Sandra Scicolore. Incontrare una persona come lei che si è resa testimone, da compagna, e anche protagonista però pure, di una vicenda importante che è quella di un grande campione, Stefano Borgonovo, che è stato più campione probabilmente, ancora più straordinario campione fuori dal campo, che in campo grazie alla battaglia più importante che ha dovuto combattere, per noi rappresenta un valore aggiunto. È come avere dato una perla di saggezza e di conoscenza. È anche una speranza ai nostri ragazzi, spiegando loro quanto il calcio possa essere uno sport straordinario, dal quale si possono ricavare esempi per la vita. Francesco Pira, sociologo della comunicazione e docente presso l'Università di Messina. Dal punto di vista valoriale il significato di questa giornata è fondamentale. parlare ai ragazzi di una scuola, del valore dello sport, come elemento per dare grande dignità a una vita, prima come campioni e poi come portatori di una malattia terribile, ma allo stesso tempo una malattia che si può vivere con grande dignità, come ha fatto Stefano Borgonovo. Io ricordo l'emozione dei suoi messaggi trasmessi attraverso i beat dal suo cervello e le cose bellissime che riusciva a scrivere e che ci facevano emozionare tutte le volte che presentavamo il libro. Quindi penso che sia un testimone di un'epoca e anche di un calcio che forse non c'è più. La biblioteca Scarabelli è la location scelta per ospitare la rassegna Scartabellando 2017 tra marionette, nanni e giganti. Un'iniziativa che viene riproposta in città anche quest'anno, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Caltanissetta e che affronta l'arte nelle sue sfumature. Diversi gli appuntamenti previsti tra novembre, dicembre e gennaio, non soltanto numericamente ma anche per tipologia di incontro. Previste infatti conferenze sulla figura di Rosso di Sansecondo o sui miroglifici, quel linguaggio attraverso l'immagine realizzata da Mirò e ancora due presentazioni di libri. Venerdì 1 dicembre a Caltanissetta, infatti in un incontro presentato dalla giornalista Roberta Fuschi, parla del suo libro dal titolo Non c'è più la Sicilia di una volta, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. L'autore ha anche vissuto in Sicilia e nel corso della sua carriera si è dedicato al giornalismo e alla scrittura di romanzi e saggi. Presenta un'isola diversa da quella che è stata raccontata, dipinta e spiegata attraverso la letteratura del passato. Parla di una Sicilia ai giorni d'oggi. Sicuramente una cosa è l'economia, la società, la politica, una cosa è l'immaginario, quello che la Sicilia riesce ad esprimere dal punto di vista della cultura, della pubblicità, del cibo, di tante cose. Ebbene, su questo aspetto sicuramente la Sicilia del 2017 non è più quella di Pirandello, non è più quella del Gattobardo, non è più quella di Sciaccia. Sarà diventata peggiore o migliore, ma sicuramente non è una terra immobile. Sicuramente non è più la terra del macismo. Il fatto che per cinque anni ci sia stato un presidente della regione dichiaratamente gay, significa che questo non è stato un dato politico pregiudiziale. La Sicilia esprime tantissime scrittrici, scrittori che raccontano il sesso, la sessualità e la sensualità femminile. Penso a Giuseppina Torregrossa, ma anche a Melissa Apri, Centro Colpi di Spazzola. Persone che hanno raccontato una sensualità diversa da quella di Brancati. Ecco di questo dobbiamo prendere atto. Presenti all'incontro anche alcuni giovani studenti. Appunto io dico agli studenti, ma soprattutto agli insegnanti. È giusto leggere Pirandello, è giusto leggere Sciaccia, Berga, Brancati, Quasimolo. Ma è anche giusto leggere quello che c'è di contemporaneo, i giovani scrittori, i film che vengono fatti oggi in Sicilia, per raccontare come era la Sicilia e come è oggi. Poi ogni studente, come dire, si farà la sua opinione, se è meglio o peggio. Ma sicuramente rispetto e accanto ai grandi classici cerchiamo anche di vedere cosa si sta muovendo nel mondo culturale, nel teatro, nel cinema, nella musica. Il sindaco di Gela, Domenico Messinesi, ha convocato al Comune, Sicilia Acque, Caltacqua, Lato Idrico, L'ASPA e la Protezione Civile per sottoporre loro una serie di questioni aperte relative alla sicurezza e alla salute pubblica. Negli ultimi mille giorni di erogazione dell'acqua, denunciato il primo cittadino, ho dovuto firmare per circa 270 giorni ordinanze di divieto all'uso alimentare delle risorse idriche, gran parte delle volte per la torbidità superiore alla limite consentito dalle norme. Non siamo più disposti a subire simili riservizi. Per il passato la popolazione va risarcita, mentre per il futuro si pongano le soluzioni per ovviare a queste intollerabili inefficienze. A Messinese non sono andate giù le ipotesi avanzate da Sicilia Acque di compensazioni sulle tariffe. Il sindaco ha preteso il proprio coinvolgimento nei prossimi tavoli tecnici già convocati in merito al Dipartimento regionale delle Acque. Alla specifica richiesta del sindaco sui recenti episodi di contaminazione da manganese, Sicilia Acque ha spiegato che le condutture in acciaio delle Bufi hanno rilasciato materiale ferroso. È stato riscontrato come evento eccezionale e non costante, se non a certe condizioni stagionali inevitabili. Capito la parte, quello relativo invece alla depurazione delle acque e alla gestione delle dighe. L'argomento è stato affrontato alla luce di esigenze di protezione civile e tutela della salute, tra impegni invocati dal comune anche se le competenze faraginose rallentano l'iter desiderato. La conferenza dei servizi ha offerto al sindaco anche l'opportunità di chiedere a Caltacqua lo stato dell'arte dei lavori di pulizia del cavo fognario di Viovenezia, la cui mancata ultima azione ha influito negativamente sull'ultima bomba d'acqua abbattutasi sulla città nelle scorse settimane. Caltacqua ha ammesso che gli interventi sono stati temporaneamente sospesi per problemi di smaltimento dei materiali emersi. Già da questa settimana però i lavori ripartiranno grazie all'acquisto di una macchina per il trattamento dei fanghi essiccati. Il sindaco a tal proposito ha chiesto la planimetria aggiornata delle sezioni interessanti della pulizia. Le stesse operazioni riguarderanno a breve il cavo di via Borsellino. Dopo un primo intervento di video ispezione Caltacqua ha giudicato i lavori. La nostra sensibilità sulla gestione delle risorse idriche in città, ha detto messinese, rimane alta. Questo incontro tecnico con tutte le parti coinvolte conferma l'interesse per una materia mai trattata prima d'ora con la stessa decisione. La conferenza dei servizi ha lasciato sul tavolo alcune questioni aperte per le quali pretendiamo, dice messinese, risposte concrete al prossimo incontro aggiornato. L'opera Pia Principessa Pignatelli Roviano di Gela presenta anche quest'anno il corso di iconografia dal tema Dipingere il volto di Cristo. La manifestazione si terrà da mercoledì 6 al 13 dicembre. Per chi fosse interessato potrà contattare la segreteria, orari pomeridiani al numero 345 4106 243 oppure presso la sede di via Feace. E' prevista per domenica 10 dicembre alle 17.30 presso la Pinacoteca Comunale di Gela la conferenza pubblica dell'Associazione Culturale Siciliana Trinacri a sezione Ducezio. Il tema è la storia dei greci in Sicilia, relazionerà il presidente Giuseppe Carnevale. Giovedì 7 dicembre alle 17.15 alle 21.15 Gianfranco Iannuzzi e Deborah Caprioglio porteranno in scena alla faccia vostra. Appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Il botteghine è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Numero di telefono 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. E i prossimi 13 e 14 dicembre alle 21 all'antidoto di Macchitella Gela la compagnia teatrale Artefatti porterà in scena forse meglio figlio di NN. Per informazioni numero di telefono 0 933 822 707 oppure 338 7143 293. Il prossimo 22 dicembre alle 21 invece sarà replicata la rappresentazione Amori e Bugie. È prevista per sabato 9 dicembre prossima Gela l'ottava edizione di Corri con Papà Natale promossa dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti. Appuntamento in piazza Umberto I dalle 9.30 per informazioni e iscrizioni. Telefona dal numero 347 57 99 271. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS